Auguste Comte nacque a Montpellier nel 1798 da famiglia cattolica di sentimenti monarchici. Nel 1814, a soli 16 anni, accede alla prestigiosa Ecole Polytechnique di Parigi, centro di irradiazione della cultura tecnico-scientifica francese ed europea. Allievo indisciplinato ma brillante, partecipa attivamente ai dibattiti che animavano l'ambiente della scuola e ne ricava la duplice propensione a una visione unità del sapere e a una valorizzazione della dimensione pratica delle scoperte scientifiche. Nel 1817 conosce Saint-Simon, di cui diviene per sette anni collaboratore e segretario, per poi distaccarsene. Nel 1825 sposa Caroline Massin, dalla quale si separerà nel 1842. Dopo una grave crisi psichica, nel 1830 pubblica il primo volume del corso di filosofia positiva, seguito da altri cinque tomi pubblicati fra il 1835 e il 1842. Nel 1844 dà alle stampe il discorso sullo spirito positivo. Sono queste le opere in cui egli fonda la metodologia scientifica nuova e applica alla filosofia i sistemi di indagine delle scienze. Frattanto aveva concorso alla cattedra di geometria dell'Ecole Polytechnique, ma gli ambienti accademici gli furono ostili, anche perché non avevano condiviso affatto il ruolo assegnato alla matematica nel corso di filosofia positiva. Privato di ogni incarico accademico, Comte sopravvisse grazie alle elezioni private e ai contributi offertigli, su intercessione di Stuart Mill, da alcuni estimatori inglesi. Cessato tale contributo, sarà l'amico e discepolo Emile Littré a costituire un comitato di raccolta fondi in suo favore. Dopo un'altra crisi nervosa e sotto l'influenza di una grande passione per la giovane Clotilde Deveau, morta prematuramente nel 1846, Comte comincia ad atteggiarsi a profeta di una nuova religione, la religione dell'umanità. Appartengono a questa seconda fase la politica positiva o trattato di sociologia istituente la religione dell'umanità, 1851-54, il calendario positivista, 1849-60 e il catechismo positivo, 1852. Comte morì a Parigi nel 1857. Lettore di Montesquieu e Condorcet, Vico, Cabanet e Tracy, De Bonal e De Mestre, seguace di Saint-Simon, Comte è assai sensibile ai temi della riflessione storica e sociopolitica. La stessa analisi metodologica è preceduta da una fondamentale premessa speculativa di natura storica. Comte ritiene di aver scoperto una legge di progressione storica che evidenzia come lo sviluppo dell'intelligenza umana, della filosofia, dell'umanità nel suo insieme, sia passato da un primitivo stato teologico attraverso un successivo stato metafisico per giungere al definitivo stato positivo. Nel primo stato l'intelligenza umana, scrive Comte, dirige le sue ricerche verso la natura intima dell'essere, le cause iniziali e finali, cioè verso le conoscenze assolute, ed interpreta i fenomeni come prodotto dell'azione di agenti soprannaturali, le divinità dei miti. Dallo stato teologico o fittizio si trapassa nello stadio metafisico o astratto, il quale, scrive Comte, non è in fondo altro che una semplice modificazione generale del precedente, ed è meramente transitorio. Infatti, nello stato metafisico, scrive Comte, gli agenti soprannaturali sono sostituiti da forze astratte, poste ognuna come spiegazione di un gruppo di fenomeni. Nello stato positivo o scientifico, fallito lo sforzo di attingere le cause assoluta dei fenomeni, l'umanità finalmente capisce di dover rinunciare all'indagine metafisica e di doversi limitare a scoprire, attraverso l'uso ben combinato del ragionamento e dell'osservazione, le leggi oggettive dei fenomeni, e cioè le loro, scrive Comte, relazioni invariabili di successione e di somiglianza. Oltre che teoria generale dello sviluppo, la teoria dei tre stati ci permette di delineare le linee di tendenza a cui sono sottoposte le diverse dimensioni umane. Infatti, come nel singolo si susseguono l'età fantasiosa dell'infanzia, la giovinezza amante delle astrazioni e la maturità che tende al positivo, a ognuno degli stati corrisponde anche una strutturazione politico-sociale, al primo stato la monarchia, al secondo il nazionalismo e la sovranità popolare, al terzo l'industrialismo col relativo esercizio del potere da parte delle forze scientifiche e produttive. Sul piano pedagogico e della organizzazione degli studi emerge parimenti la necessità di, scrive Kant, riformare la nostra educazione europea, ancora essenzialmente teologica, metafisica e letteraria, con un'educazione positiva conforme allo spirito della nostra epoca. Sul piano gnosiologico, infine, a giudizio di Kant esiste una tendenza comune ad ognuno degli stati considerati. Essa consiste nella riduzione progressiva dei principi esplicativi al minor numero possibile, se non ad un unico principio generale. Come nello stato teologico si è giunti a concepire l'azione provvidenziale di un essere unico, e nello stato metafisico una sola grande entità naturale, la natura, considerata come la sorgente unica di tutti i fenomeni, parallelamente, scrive Kant, la perfezione del sistema positivo sarebbe di poter rappresentare tutti i fenomeni osservabili come casi particolari di un solo fatto generale. Ma Kant si affretta subito a denunciare come chimerica la riduzione di tutti i fenomeni ad un'unica legge esplicativa, sia perché le capacità dell'intelligenza umana sono troppo limitate, sia perché l'universo è troppo complicato per consentirci mai una tale perfezione scientifica. Due sono allora i compiti principali che Kant attribuisce alla sua filosofia positiva, condurre il sapere scientifico ad una unità che non sia basata su eccessive pretese teoriche e impostare un programma di riforme sociali e politiche conformi allo spirito positivo. La dottrina della scienza di Kant verte essenzialmente sul dato problematico costituito dal contrasto fra la necessaria ed utile tendenza all'unificazione del sapere e l'impossibilità di una riduzione del sapere positivo, diversamente che per quello teologico o metafisico, ha un unico principio esplicativo. Tale impossibilità è dovuta altresì alla specificità dei diversi oggetti di studio, chimici, fisici, biologici, ecc., a cui si collega inoltre la crescente specializzazione della ricerca scientifica, ormai distinta in branche aventi ognuna proprie caratteristiche e propri strumenti d'indagine. La soluzione del problema è da Kant individuata a. attribuendo capacità unificante al metodo della ricerca, unico per tutte le scienze, b. procedendo ad una sistemazione enciclopedica del sapere scientifico, che distingua, classificandole, le diverse discipline scientifiche ma ne mostri la sostanziale omogeneità. In questo senso la filosofia positiva è essenzialmente una teoria metodologico-sistematica. I fondamenti della metodologia comtiana sono ricavati dalle caratteristiche assunte dall'intelligenza umana una volta che essa sia pervenuta al suo stato definitivo e stabile, come scrive Kant, cioè allo stato positivo. Essi consistono nel convincimento che tutti i fenomeni sono sottoposti a delle leggi naturali, che le leggi di natura sono immutabili, che esse sono accolte da una corretta combinazione di osservazione e ragionamento, che esse non ci illuminano sui motivi reconditi della loro formazione, ovvero sulle cause generatrici dei fenomeni, ma riguardano quindi solo i rapporti di successione e similitudine tra i fenomeni stessi, e che infine compito della scienza è quello di ridurre il novero delle regolarità empiriche al minor numero possibile. Tutto ciò, richiamandosi inoltre all'insegnamento di Bacone, fa ritenere che il metodo più consono allo spirito positivo sia quello di un induttivismo ben condotto correlato ad un empirismo non piatto né cieco che eviti di risolversi, scrive Kant, in una vana erudizione che accumula in modo meccanico dei fatti senza aspirare a dedurli gli uni dagli altri. Posto infatti che il principale carattere dello spirito positivo è, scrive Kant, la subordinazione normale del ragionamento all'osservazione, e che pertanto l'induzione, intesa come generalizzazione dei dati osservati, costituisce la fonte principale della conoscenza scientifica, Kant si preoccupa di precisare che, e gli scrive, è ugualmente evidente che per osservare il nostro spirito ha bisogno di una teoria. E' dunque necessario ai fini della stessa generalizzazione affiancare all'osservazione la formulazione di ipotesi che ci permettono di dare un ordine teorico alla semplice registrazione dei fenomeni. All'induzione si affianca allora in un ruolo ausiliario la deduzione. Il fine complessivo dell'impostazione metodologica è comunque quello di condurci alla descrizione realistica dei fenomeni, e il realismo a sua volta consente di dispiegare pienamente il più importante dei risultati della scienza positiva, ovvero il suo carattere previsionale. Se si è correttamente proceduto e si è riusciti quindi a cogliere una legge naturale, reale, è possibile anche prevedere che, a parità di circostanze, il corso dei fenomeni esaminati si ripeterà. La previsione il più alto dei risultati teorici dello spirito positivo si salda poi perfettamente con la dimensione pratica del sapere relativa alla sua utilità per la vita concreta dell'uomo. Scrive infatti Kant nella seconda lezione del corso di filosofia positiva, scienza d'onde previsione, previsione d'onde azione. Pur distinguendo con chiarezza scienza e tecnica, non confondendo mai la ricerca pura con le mutevoli ed estemporanee esigenze pratiche, Kant insiste su questa stretta correlazione fra sapere e potere. Kant afferma di aver ricavato queste sue considerazioni metodologiche non sulla base di speculazioni a prioristiche ma dall'osservazione dell'attività scientifica stessa. Lo studio delle scienze permette infatti di percepirne le affinità e le differenze. Ricavate le similarità metodologiche, è poi possibile classificare le diverse discipline scientifiche ed elaborare un'enciclopedia del sapere positivo. Kant organizza la sua enciclopedia cercando di conciliare il criterio tassonomico, cioè classificatorio, con quello gerarchico. Ciò significa che, mentre cerca di essere rispettoso della specificità e dell'autonomia di ogni disciplina, egli intende anche attribuire ad alcune di esse un maggior grado di scientificità e quindi un ruolo di modello per le altre. La classificazione delle scienze ci porta ad individuare sei discipline principali, la matematica, l'astronomia, la fisica, la chimica, la biologia e la sociologia. Esse sono ordinate secondo il principio della semplicità ed astrazione decrescente. Ciò significa che le scienze, poste alla base del sistema, sono caratterizzate da maggiore generalità e potenza esplicativa, mentre le altre, a complessità e concretezza crescenti, hanno una minore capacità di generalizzare e un grado inferiore di previsionalità. Vi è inoltre una relazione di dipendenza fra le discipline, poiché le meno generali fondano le loro leggi su quelle stabilite dalle più generali ed astratte. L'ordine delle scienze corrisponde anche ad un criterio storico, poiché indica la successione con la quale le discipline sono pervenute allo stato positivo. La più astratta delle scienze è la matematica, che si divide in matematica astratta o calcolo, algebra e aritmedica, e matematica concreta, geometria generale, meccanica razionale. Essa, oltre a costituire la più basilare delle discipline, rappresenta anche, secondo Kant, lo strumento più potente dell'intelligenza umana. Tutto ciò porta, fra l'altro, all'esclusione della logica, propriamente detta, dal nuovere delle scienze. Non esiste per Kant, come detto, una metodologia astratta del corretto ragionamento, ma essa va ricavata dall'analisi del lavoro scientifico. Se vi è un organon, uno strumento logico del sapere scientifico, questo è il calcolo matematico. Anch'esso, d'altronde, va incontro a delle limitazioni, poiché, anche se Kant ha nette grande importanza alla matematizzazione, egli è scettico verso i tentativi di utilizzarla in ogni circostanza. Mentre è di facile introduzione in astronomia, fisica e chimica, in biologia occorre affiancarle il metodo comparativo e in sociologia quello storico. La prima vera scienza fenomenica è l'astronomia. Essa studia la forma, la grandezza, il movimento degli astri, e cioè i fenomeni più generali, più semplici, più astratti che vi siano, secondo Kant, poiché di essi viene presa in considerazione solo la componente geometrica e meccanica. Tali fenomeni sono ampiamente matematizzabili e riconducibili a un numero ristretto di principi esplicativi. A ciò si collega il divieto kantiano relativo allo studio dei fenomeni che chiameremmo oggi astrofisici, vale a dire fisica, chimica, mineralogia dei corpi celesti, poiché la loro osservazione risulta assai problematica e non suscettibile, a parere di Kant, di valida generalizzazione. Segue la fisica assai vicina all'astronomia in quanto entrambe studiano i corpi inerti. Pur utilizzando in grande misura le leggi astronomiche, ad esempio la gravitazione, i fenomeni fisici sono sottoposti a principi specifici, calore, luce, eccetera, e danno luogo a leggi più complesse. Allo stesso modo i fenomeni studiati dalla chimica sono più complicati che i fenomeni fisici. Tutte le trasformazioni chimiche sono sottoposte, scrive Kant, all'influenza della pesantezza del calore, dell'elettricità, eccetera, ma presentano anche qualcosa di proprio che modifica l'azione degli agenti precedenti. Infatti la chimica, studiando i fenomeni di alterazione molecolare, descrive modificazioni profonde e durevoli non comparabili con la transitorietà e reversibilità delle trasformazioni fisiche. Con la biologia si passa allo studio dei corpi organizzati, essa è relativa agli aspetti individuali dei fenomeni vitali. Si distingue in dinamica, fisiologia, o studio della funzione di un organo, e statica, anatomia, o studio dell'organo di una funzione nota. Non dandosi funzione senza organi, la psicologia va esclusa dal sistema delle scienze. Tale esclusione viene giustificata da Kant anche sul piano metodologico. Fondandosi sull'introspezione, la psicologia avrebbe la pretesa di studiare i fenomeni nel loro farsi e non come fatti. Scrive Kant, l'individuo pensante non può scendersi in due, di cui l'uno ragioni mentre l'altro lo osservi ragionare. Essendo identici, osservatore e osservato, come potrebbe verificarsi l'osservazione? La psicologia come scienza autonoma non esiste, quindi. Essa o è scienza dell'individualità organica e allora appartiene alla biologia, o è scienza dell'individuo associato e viene assorbita dalla sociologia. Il motivo polemico contro le filosofie psicologistiche agganciate alla teologia o a forme di metafisica spiritualistica è evidente. L'ultimo stadio di positività, e nello stesso tempo il fine ultimo di tutte le scienze, sta nella sociologia, che ha per oggetto la realtà umana. Si tenga conto che questo termine è un'invenzione dello stesso Kant. Autodefinitosi il Galilei delle scienze sociali, Kant non si ferma alla fondazione della nuova scienza, ma si apre al più profondo dei suoi bisogni teorici, quello di proporre un'organizzazione della società conforme allo spirito positivo. Un breve bilancio circa l'attendibilità scientifica del sistema kantiano non può evitare di notare come gli eccessivi divieti ed espunzioni le abbiano nociuto. Si deve aggiungere il rifiuto di Kant per la teoria ondulatore della luce, per la teoria cellulare, per l'evoluzionismo, per la ricerca di criteri fisici unificanti, le diverse classi di fenomeni per la chimica organica. Analogamente alla fisica e alla biologia, la sociologia si divide in statica e dinamica. La statica sociale studia le condizioni di equilibrio su cui si fonda una società come ordine. La dinamica studia lo sviluppo continuo e graduale dell'umanità e riconosce la sua molla nella legge del progresso. Avendo alle spalle la distinzione sensimoniana fra età organiche ed età critiche, Kant vede nello stato teologico, a causa del prevalere della staticità, una società ordinata ma priva di progresso. Lo stato metafisico, al contrario, rappresenta l'era della dinamicità esasperata ed è quindi caratterizzato da una tendenza eccessiva al progresso senza il necessario riferimento a principi ordinativi. Dietro tali distinzioni si può scorgere anche un riferimento storico preciso, essendo lo stato teologico modellato sull'Ancien Regime e lo stato metafisico chiaramente assimilabile alle vicende della rivoluzione francese. Ora, scrive Kant, per la nuova filosofia l'ordine costituisce incessantemente la condizione fondamentale del progresso e reciprocamente il progresso diventa il necessario scopo dell'ordine. La complementarietà fra ordine e progresso, necessaria per far trapassare la fisica sociale allo stato positivo, è possibile grazie a una concezione gradualistica e non conflittuale del progresso. La cui legge postula, scrive Kant, che ogni stato sociale nella serie consecutiva è il risultato necessario del precedente e l'indispensabile motore del successivo. Secondo il luminoso assioma del grande Leibniz, il presente è gravido dell'avvenire. Questa nozione lineare e cumulativa del progresso sarà comune a tutta la cultura positivistica. Pietro Rossi ha sostenuto che la sociologia positivistica non è soltanto un'interpretazione della società industriale, essa ne è anche e soprattutto l'utopia. In effetti l'assetto sociale che per Kant deriverebbe dalle acquisizioni della sociologia positiva è quello di una nuova società organica in cui progresso e ordine si trovano in equilibrio. L'avvento di un regime sociologico è dunque una razionale necessità storica. Esso sarà contrassegnato dall'esclusivo approfondimento scientifico della conoscenza della natura. Kant vagheggia anche la fine dei conflitti armati fra le nazioni europee e l'avvento di un'era pacifica. Ma accanto a temi umanistici e laici, l'utopia sociale di Kant è intrisa anche di un certo autoritarismo derivante dall'importanza eccessiva attribuita ai fattori di coesione e di organicità sociale. In questo senso Kant polemizza contro la specializzazione scientifica e il nome dello spirito d'ensemble auspica un ridimensionamento della libera critica sia nella scienza che in politica. Più interessante è l'analisi metodologica condotta da Kant sul piano sociologico. La sociologia in quanto scienza viene posta al culmine del sistema e quindi assomma in sé l'intera gamma metodologica espressa dalle scienze precedenti. La sociologia utilizzerà quindi sia l'osservazione pura, tipica dell'astronomia, ma dovrà affiancarle la sperimentazione tipica della fisica e della chimica, cioè la modificazione sistematica ed intenzionale a fini conoscitivi dei fenomeni. Ora, forme di sperimentazione diretta sono inefficaci poiché nell'organismo sociale, per la sua solidarietà le perturbazioni si trasmettono a tutti gli strati, rendendo impossibile la rilevazione degli effetti reali. Resta possibile la sperimentazione indiretta, e cioè l'analisi dei casi patologici che, comparati con gli stati normali, forniscono utili indicazioni scientifiche. La generalizzazione di tale metodo non è altro che la comparazione tipica della biologia che evidenzia in modo sistematico analogie e differenze fra i corpi. La comparazione si prolunga a sua volta in analisi storica, tipica della sociologia. La concezione comtiana della storia è globale ed organica. Egli scrive, cosa può significare ad esempio la storia esclusiva e soprattutto parziale di una sola scienza o di una sola arte, senza essere preliminarmente connessa a uno studio dell'insieme del progresso umano? L'ultima fase del pensiero comtiano è caratterizzata da un'avventura intellettuale che cede a poco a poco agli impulsi del sentimento. La filosofia aveva esaltato finora l'intelligenza umana come capace di cogliere tutte le leggi dell'esistenza e di agire sul sentimento nella trasformazione dei costumi e delle istituzioni. Negli ultimi anni Comte rovescia tra il rapporto sotto la spinta dell'esigenza mistica di cogliere, al di sopra dell'unità del sapere, un'unità oggettiva e pervasiva. In effetti un germe romantico si anidava già nella filosofia positiva e nella esaltazione entusiastica della scienza. Ora avviene uno slittamento deciso verso un'esaltazione religiosa e una forma di catechismo positivo in cui si delinea profeticamente il dogma di una nuova religione. In questa sua religione, al posto di Dio, Comte pone il concetto di umanità o grande essere, inteso come la totalità degli esseri passati, presenti e futuri, che concorrono al perfezionamento universale. Accanto al grande essere, Comte pone come oggetto di culto il grande feticcio, cioè la terra, e il grande mezzo, lo spazio. La comunità dei fedeli di questa improbabile trinità è una sociocrazia in cui diversi gruppi compiono ognuno una funzione organica. I patrizi, organi di nutrizione dell'organismo sociale, i filosofi, organi della ragione, le donne, organi del sentimento interiore, i proletari, organi dell'energia. In malentistica, più pedagogica che consolatoria, la religiosità contiana aveva lo scopo principale di rendere popolare lo spirito positivo ed evidenzia pertanto l'intima convinzione della ineliminabilità del sentimento religioso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.